Una storia dell'economia toscana dall'Ottocento a oggi in duecento pagine e di questo si parla nel volume curato da Regione Toscana e IRPET presentato in Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. Presenti tra le autorità il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e il direttore dell'IRPET Stefano Casini Benvenuti. All'interno del volume i contributi di docenti universitari e ricercatori che ricostruiscono lo sviluppo del sistema bancario della Regione e la capacità innovativa anche in tempi di crisi dei suoi distretti industriali, capacità che anche oggi resiste. Se non avessimo avuto i distretti che hanno accettato la sfida della globalizzazione la Toscana non avrebbe avuto pure in una situazione economica per tutti difficile risultati migliori come ha avuto rispetto ad altre regioni. Nel libro presentato a Firenze l'accento è posto tutto sulla forza innovativa della Toscana in settori che spaziano dall'agricoltura al tessile che hanno contribuito a modificare il tessuto sociale ed economico del territorio con un comune denominatore che è la bellezza anche nell'impresa. E noi facciamo cose, abbiamo sempre fatto cose che con questo hanno a che vedere. Pensate alla moda, è qualcosa che ha a che vedere con la bellezza. Pensate al turismo, è qualcosa che ha a che vedere con la bellezza. Ma anche ai settori nuovi, pensate un po' ai megaiotte, la Toscana fa dei megaiotte meravigliosi. Anche questo ha a che vedere con la bellezza. A chiusura del libro un capitolo sulla Toscana di oggi alla prova di una difficile ripresa dalla la crisi con uno sguardo puntato rigorosamente sul futuro.